salve amici in questa lezione vediamo in dettaglio la funzione della scrivania il cosiddetto desktop la scrivania è la principale area di lavoro quando abbiamo il computer acceso quasi tutto lo schermo è occupato dalla scrivania finder scrivania scrivania vuoto gruppo se tenete la scrivania vuota ogni volta che aprite una finestra o ogni volta che chiudete una finestra avrete il messaggio scrivania vuoto apriamo la nostra cartella com command shift h inizio admin finestra vista colonna bravo mettiamo che voglio creare un collegamento veloce dalla scrivania verso la cartella documenti elenco un elemento selezionato documenti folder i collegamenti su maxi chiamano alias vo shift m menu scendo giù apri un nuovo pan sposta nel cestino ottieni informazioni comprimi documenti duplica crea alias crea alias invio vista documenti alias command c copio copia documenti alias chiudo la finestra del finder chiudi finestra scrivania vuoto gruppo e sposto command option v sposta elemento qui adesso sulla scrivania c'è un collegamento veloce verso la mia cartella documenti documenti alias alias perfetto se io apro una nuova finestra comandena nuova finestra del finder tutti i miei file finestra vista colonna browser e la chiudo chiudi finestra finder documenti alias alias voiceover pronuncia di default il primo elemento che trova sulla scrivania command backspace sposta nel cestino cancela il collegamento ma la cartella documenti rimane intatta la scrivania viene visualizzata come un'immagine per le persone ipovedenti magari serve a cambiare l'immagine andiamo a vedere come rendere l'immagine meno colorato voem barra dei menu apple freccia giù apple informazioni su preferenze di sistema ellis invio preferenze di sistema preferenze di sistema tab generali pulsante freccia destra scrivania e salva schermo pulsante barra spazio scrivania e salva schermo finestra barra strumenti qua troviamo tutte le opzioni vo freccia destra o flick scrivania selezionato salva schermo sfondo nero lucido immagine sfondo nero lucido a schermo pieno pulsante a crutti immagini scrivania tabella riga 3d 5 sono nella tabella dei sorgenti immagini scrivania la prima voce e immagini scrivania vo freccia destra browser immagine elenco ok qua posso navigare fra le varie immagini mano mano che naviga mac li cambia in automatico si era immagine e mi pronuncio il nome questo è quello originale si era due immagine il capitano immagine il capitano due immagine ok come vedete le immagini cambiano command q finder scriva non c'è bisogno che io confermo nulla e voglio farvi vedere un altro tocchetto molto interessante comanda shift o documenti nella mia cartella documenti ho un'immagine sfondo nero lucido punto i pegg i lunga pieg image personalizzato vo shift em menu freccia giù fino servizi servizi sottomenu freccia destra servizi sottomenu save to sorters in box prismo create text prismo create conta imposta immagine della scrivania ok invio vista colonna browser un elemento selezionato sfondo nero lucido punto i pegg i lunga pieg in chiudi finestra lo sfondo in maniera veramente semplice per ultimo andiamo a vedere come si comportano i hard disk e le chiavette colleghiamo una memoria esterna nel caso è un hard disk partizionato in varie diciamo partizioni time machine volume con la freccia su e giù posso navigare infatti voice over mi segnala time machine volume quindi volume indica una memoria esterna sito volume ok mi posiziono su quello che vuole aprire time machine mac os archivio principale volume e apro la cartella virtuale che vedo in questo momento della memoria esterna con command freccia giù apri selezione mac os archivio principale finestra vista colonna browser ok freccia su e giù sottolineatura 2016 da sistemare navigo i contenuti di questa chiavetta ovviamente qua posso copiare o caricare del file sia dal computer per il file sia dal computer che vuole portare verso la chiavetta e viceverso comando w chiude la finestra chiudi finestra finder mac os ok per vedere tutti le memorie esterni collegati al mio computer comando shift c computer macbook apre la finestra del finder e mi fa vedere tutte le memorie del computer disco remoto mac os archivio principale macbook volume ok perfetto quindi da qua posso vedere tutte le partizioni chiudi finestra mac os archivio principale volume mac os archivio principale quando finisco di lavorare con il card disc o la chiavetta usb prima di staccarla dal computer devo espellerla il comando e comande o se ve lo dimenticate vo shift emma menu apri espelli mac os archivio principale espelli faccio invio espelli mac os archivio lui mi chiede giustamente se voglio espellere tutto per espellere tutto annulla espelli tutte pulsante confermo mac os archivio principale e ci vuole un paio di secondi affinché tutte le iconcine che c'erano sulla scrivania spariscono vo shift d scrivania scrivania gruppo mac os archivio principale oscurato volume vedete scrivania scrivania gruppo adesso non c'è più niente quindi la scrivania è quello che vediamo a schermo occupa quasi tutto lo schermo serve per appoggiare le finestre e le aree di lavoro e visivamente composta della barra del menu in alto orizzontale e il doc in basso orizzontale le memorie esterni vengono chiamati volume mentre i collegamenti che possiamo creare vengono creati alias la scrivania può essere personalizzata dal menu apple preferenze sfondo e